Non è un segreto per nessuno che essere abbigliati bene in barca sia uno degli aspetti più importanti. Quindi noi sotto al nostro pile abbiamo un particolare accessorio molto innovativo, devo dire, un gilet. Non è un gilet normale perché è come una batteria riscaldata, ovvero questa batteria ha un circuito elettrico e passa tutto intorno al gilet e fornisce calore. Quindi immaginatevi dopo una giornata di mare in cui siete infreddoliti, questo gilet qui vi aiuterà moltissimo a riprendere calore o a mantenerlo, quindi indossandolo fin dall'inizio. Come vedremo dopo, vi faremo vedere, si accende molto facilmente premendo per due secondi e ha quattro modalità di funzionamento che corrispondono a quattro potenze differenti. Qui c'è una batteria che è quasi, diciamo, praticamente invisibile e non ci si accorge di averla indosso, tanto è mimetizzata. Fa un bellissimo calore ed è sicuramente un accessorio che riteniamo molto utile in barca e non solo perché questo può essere utilizzato anche in montagna, sugli sci o comunque in generale per l'outdoor. Quindi è un capo con diverse funzioni. La batteria è qui, si ricarica e adesso, eccola qua, si stacca e si mette in carica. Dopo vi facciamo vedere come. Un capo veramente ideale da portare in barca durante l'inverno e non solo. Ecco, la batteria del Drivetech si stacca in questo modo. Adesso quindi si è staccata dal suo gilet. Questo è il carichino che è attaccato alla corrente della barca o di dove siete e viene semplicemente inserito qui dentro. Ecco qua, si accende una luce che indica che è in ricarica e anche lo stato della carica. Quando diventa verde vuol dire che è pronta. In sole due ore questa batteria sarà di nuovo carica per essere di nuovo rimessa nel gilet e tornare a fare calore al nostro corpo. Bene, volevamo farvi vedere il dettaglio del funzionamento del warm shell di questo gilet caldo. Ora è spento, la luce vedete qui è spenta. Per accenderlo si preme per due secondi. Ecco qui, acceso. Rosso pieno vuol dire 100% della potenza. Un grandissimo calore, infatti si sente già che il calore diffondersi per il corpo. Poi si preme una volta e diventa verde lampeggiante, ovvero 25%. Premendo un'altra volta diventa verde fisso, 50%. Premendo un'altra volta diventerà rosso lampeggiante, 75%. E così via. Per spegnerlo basta tenere premuto e si spegne.